Il Comune di Varze è particolarmente orgoglioso della sua festa e dell'impegno che ci mettono i volontari. Senz'altro, oramai il calendario è consolidato, la festa è un appuntamento fisso nell'aprile del nostro territorio e i volontari sono sempre di più tutti gli anni. Quest'anno addirittura parliamo di 13 giornate di festa, quindi un impegno incredibile, enorme, per il quale ovviamente anche l'amministrazione si sente di dover ringraziare tutti quanti perché ricordiamo sono tutte assolutamente forme di volontariato, quindi è veramente un dare qualcosa per il Paese e per le associazioni di Paese per realizzare un evento che sempre più tutti gli anni diventa importante e anche in un certo qual modo grandioso e che è poi anche un evento unico in un panorama primaverile che non vede ancora parecchie feste di questo genere, quindi siamo un po' i primi, apriamo un po' le feste dell'anno.